Chi ha paura di vigilia? Molva! Cristo, santo! Allora, dove sono? Se abbiamo ospiti, dove sono? Dov'è questa gente? Ma faccio no! Tuo padre è proprio un uomo fantassico! Sì, è vero! Lo veneravo in tutto e per tutto! Il momento che tua moglie mi converebbe portarmela in un angolo e montarla come un cano a satanà! Non volevo! Io pensavo che tu fossi consapevole! Io non lo sapevo! C'è stato un solo uomo nella mia vita che mi abbia mai resa felice Il mio marito, Giorgio, naturalmente Passi in gira, padrone di casa! Il nostro figlio! E io l'ho ucciso! No! Sì! Hai fatto veramente un bel cazzo di casino! Ti ha paura di Virginia? Giorgio, Giorgio, Giorgio! Giorgio, 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 Giorgio!